siamo nel 56 come sapete il protagonista del film è egno redattore dell'unità giornale del partito comunista italiano perché in italia c'erano i comunisti i comunisti non vivevano solo in russia azione poi faccio un film una volta ogni cinque anni deve essere sempre lo stesso se no poi va tutto male tua madre produce il film di un altro regista tutto diverso da anni mi aspetto che giovanni cambi ora ha iniziato a girare un nuovo film quale scena d'amore questa è una scena in cui parlate di politica questo è un film d'amore scusate la scena che stai girando fa male al cinema lo capisci voglio lasciare giovanni ma non ne sono capace non ci riesco non è mai il momento il nostro rendezvous è confermato su netflix i nostri prodotti sono visti in 190 paesi 190 paesi 190 paesi comunque c'è un grosso problema in questo film manca un momento nuota fa non mi stare con te è diventato sempre più difficile chiamo martin scorsese che succede ciao a tutti la storia non si fa come se e chi l'ha detto io invece la voglio fare proprio come se bene no 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 Grazie a tutti. 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 Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. Abbiamo fatto tutto per produrre questo film. È il progetto più importante. Deve essere sempre lo stesso, sennò poi va tutto male. Tua madre produce il film di un altro regista. Non va bene così, è tutto diverso. Da anni mi aspetto che Giovanni cambi. Ora ha iniziato a girare il nuovo film. Top! Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Questo è un film d'amore? Azione! No, no, scusate! La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Voglio lasciare Giovanni ma non ne sono capace, non ci riesco. Non è mai il momento. Il nostro rendezvous è confermato su Netflix. Netflix. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Comunque c'è un grosso problema. In questo film manca un momento what the fuck. What the fuck? Think, 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 think about it. Think, 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 think about it. Devono stare con te, è diventato sempre più difficile. Ti chiamo Martin Scorsese. No. Pierre, che succede? Ciao a tutti! La storia non si fa con i sei. E chi l'ha detto? È freedom! Io invece la voglio fare proprio con i sei. È freedom! È freedom! La storia non è uno. Grazie a tutti.